La Polizia Stradale di Caltanissette e il Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell'Azienda Sanitaria Provinciale in questi giorni stanno eseguendo una serie di controlli su tutti i mezzi utilizzati per il trasporto di animali vivi. La normativa che regola il trasporto di animali vivi in Italia, finalizzata al benessere degli animali, prevede che i mezzi per essere idoni al trasporto delle bestie debbano essere costruiti in modo da non arrecare loro lesioni o provocarne sofferenze. I veicoli devono inoltre essere costantemente puliti e disinfettati e in grado di fornire protezione e riparo da condizioni meteo avverse e temperature estreme. I controlli riguardano ovviamente anche lo stato di salute degli animali che devono essere condotti alla macellazione. Sono naturalmente necessarie anche tutte le certificazioni veterinarie previste dalla legge in materia di salute pubblica. Le eventuali violazioni comportano il rischio di sospensione dell'autorizzazione al trasporto oltre che sanzioni fino a 15.000 euro.